Buongiorno ad FT Online, mercato azionario ingessato, Fuzzi Mib sostanzialmente sulla parità, sono due giorni che i prezzi si muovono all'interno del range stabilito nella seduta di martedì, vediamo che i massimi di area 25.500 che sono praticamente coincidenti con quelli del febbraio 2020 non sono stati superati e da quel giorno le quotazioni hanno iniziato a muoversi lateralmente, domani ci sono gli importanti dati sul mercato del lavoro USA, è probabile che i mercati azionari in questo momento siano concentrati sull'uscita di quei dati macro, quindi è possibile che fino a domani non ci siano novità di rilievo. La stessa situazione la troviamo anche sul DAX, vedete anche in questo caso i prezzi sono nelle ultime due sedute rimasti all'interno dell'intervallo disegnato nella giornata di martedì e anche questo è una chiara indicazione del fatto che il mercato incerca di nuovi spunti per decidere se superare o meno, in questo caso area 15.000, 6.50, 15.700 per lanciarsi a rialzo verso i 16.000 punti o se avviare da questi livelli una fase di ripiegamento. La candela giornaliera disegnata dal Futsimib martedì che è uno shooting star fa temere una situazione di potenziale ribasso perché è una candela che spesso compare in prossimità di forti resistenze e quando la resistenza non viene superata ovviamente si genera poi una fase ribassista. Questo è il grafico dell'euro dollaro, in questo caso stiamo guardando un grafico intraday, vedete come i prezzi si muovono da inizio maggio all'interno di un canale crescente, la base del canale è poco al di sotto dei livelli toccati come minimi questa mattina, quindi in area 1,21 e 60, se dovessimo scendere al di sotto di quei livelli vorrebbe dire che ci sono novità negative, probabilmente domani sul fronte dell'inflazione USA e quindi il mercato torna a temere un rialzo dei tassi interesse fino a che stiamo di sopra di 1,21 e 60, è possibile un'evoluzione rialzista e quindi una situazione potenzialmente positiva anche per le borse, quindi suggerisco di guardare il dollaro, se dovesse scendere al di sotto dei minimi di ieri sarebbe un segnale negativo per le borse fino a che rimaniamo di sopra di quei livelli c'è speranza di un proseguimento del rialzo. Questo è il grafico del Bitcoin, volevo farvelo vedere perché come si nota la candela giornaliera di oggi è arrivata sulla base del canale ribassista che si era disegnato dai massimi di aprile, su questa linea ci sono già stati diversi return move nel corso della parte terminale del mese di maggio, se dovesse saltare questa resistenza intorno ai 39.050-39.100 dollari ci sarebbe un segnale di forza importante per il Bitcoin, in quel caso addirittura si potrebbe tornare a vedere dal basso la neckline della testa a spalle ribassista che si era disegnato dai massimi di febbraio, quindi un ritorno verso area 50.000. Personalmente ci credo abbastanza e su questo mercato ho preso recentemente posizione al rialzo. Abbiamo qui il grafico del Dow Jones Industrial, vedete anche in questo caso dopo la candela shooting star di martedì sono due giorni che i prezzi si muovono lateralmente all'interno del range di quella giornata, i massimi della candela di martedì sono coincidenti praticamente con il 78,6% di retracement del ribasso dai massimi di inizio maggio, sopra 34,7% segnali di forza per la borsa USA, finché siamo sotto quei livelli c'è il rischio di una correzione di tutta la precedente fase rialzista. Guardiamo adesso un paio di ETF che sono secondo me interessanti, questo è il Winston 3 sul comparto bancario europeo con leva A3, vedete la candela di ieri è il classico hanging man, ovvero quella tipologia di candela che è il reciproco dello shooting star e che ha però le stesse implicazioni, cioè compare quando il mercato rischia di andare incontro ad una fase ribassista, sotto i minimi di ieri ci sarebbe un segnale di debolezza, è evidente che se il comparto banche che ha performato così bene nell'ultimo mese dovesse andare in conto ad uno storno vorrebbe dire che tutto l'azionario Europa è destinato ad una fase di ripiegamento, quindi vi suggerisco, anche se non volete operare direttamente su questo strumento, di guardarlo perché la sua evoluzione potrebbe darci delle indicazioni utili anche per capire dove va la borsa. Infine le materie prime, questo è il sempre Wisdom 3 sul Brent, BRNT come codice, vedete che questa mattina ha rotto questa importante resistenza di area 24, la fase laterale precedente è di circa 3 punti di ampiezza, quindi se la rottura di area 24 verrà confermata oggi in chiusura di seduta, si aprirà la strada per il test di area 27, pertanto è una potenziale strategia da mettere in piedi, acquisto anche sui prezzi attuali con stop subito di sotto di area 24. Per quello che riguarda i temi di oggi volevo guardare insieme a voi Azimut che è in crescita e per quello che riguarda invece la versione del video riservata agli utenti Patreon, quindi patreon.com, FTA online, guarderemo invece Banco BPM, Ferrari, Moncler, Prisman e Karel che si stanno comportando tutti molto bene questa mattina, ma Azimut lo volevo guardare perché volevo farvi notare la similitudine che c'è tra il titolo e l'indice, volevo farvi notare che quando si creano delle divergenze, come era successo tra la fine del 2019 e inizio del 2020, dove su Azimut era comparso un test a spalle ribassista, mentre sul grafico dell'indice avevamo una fase di rialzo ancora in evoluzione e quando si crea questo tipo di divergenza c'è il rischio che chi ha ragione sia il titolo o non l'indice, nel senso che è il titolo che anticipa un'evoluzione diversa da quella dell'indice. Se andiamo a guardare queste linee di tendenza, vediamo che quella sul grafico di Azimut è già stata violata, mentre quella sull'indice è ancora intatta in base a quello che ci siamo detti, quindi il rischio che Azimut stia anticipando una fase di debolezza per l'indice esiste, questa è la media mobile esponenziale 20 giorni, andiamo a vedere come si è comportata invece sull'indice. Vedete, sull'indice funziona ancora da supporto, mentre su Azimut è stata già violata al ribasso e nell'ultima tre sedute ha funzionato come resistenza. Insomma, qualche dubbio sul fatto che effettivamente la candela giornaliera di ieri l'altro, lo shooting style di cui vi ho già parlato, comparsa sull'indice sia qualcosa che anticipa una fase ribassista, abbassista, questo timore c'è e verrebbe confermato in caso di una violazione di area 25.250. Vedete questa candela shooting star che era comparsa su Azimut il 17 maggio, come aveva anticipato l'inizio di una fase calante. Detto questo vi invito come sempre a commentare i nostri video, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e vi ricordo che su Patreon con una spesa mensile minima avete l'accesso a tutta una serie di informazioni che invece non sono disponibili per gli utenti normali. Ancora buona giornata e a domani con il consueto commento giornaliero.